Noi dobbiamo lavorare per un partito degli onesti. Lei è stato perseguitato dalla giustizia. Lei è stato perseguitato dalla giustizia. Perché nel 1994, quello del mio facsimile, lei aveva 58 anni. Non è possibile che fino a 58 anni non le sia successo niente e da quando è entrato in politica le è successo di tutto in riferimento a fatti di prima. Lei è stato un perseguitato. Con onestà, visto che è un nuovo inizio, noi dobbiamo dire che non tutti lo sono.